Attenzione popolazione, ore 21, Piazza Vittorio Emanuele, giornata mondiale dell'incertezza, a correte numerosi, Piazza Vittorio Emanuele, vi vogliamo numerosi, ore 21, giornata mondiale dell'incertezza, vogliamo tutta la popolazione a raccolta in Piazza Vittorio Emanuele, giornata dell'incertezza, ore 21, tutta la popolazione chiamata in Piazza Vittorio Emanuele, giornata mondiale dell'incertezza, a correte numerosi, giornata mondiale dell'incertezza, Piazza Vittorio Emanuele, scusi, prego, in Piazza Vittorio Emanuele? Sì, alle 21, alle 21, e vabbè quando? Domani o dopodomani, o la settimana prossima, giornata mondiale dell'incertezza, domani o dopodomani, ore 21.